buongiorno allora vediamo ci sono alcune questioni della bibbia che meriterebbero ulteriori indagini a mio avviso sono cose che ho imparato io da poco quindi non sono un insegnante particolarmente esperto però sono cose che volevo condividere con voi innanzitutto dobbiamo fornire una risposta ad alcune domande cioè cosa sono gli ebrei così si intende con il termine ebrei chi sono risposto questo chi sono poi i gentili che una parola che credo in italiano significa poco come in inglese fra l'altro chi siamo noi poi rispetto ai personaggi descritti nella bibbia altre questioni diciamo più storiche perché ho sentito vari tipi di risposta a questo ma se è vero che l'uomo fosse creato con adamo quindi 6.000 anni fa insomma come si spiega la durata di civiltà come gli egiziani ed altre civiltà mondiali che sono palesemente più vecchie come si spiega anche il fatto che caino è andato ha trovato moglie ha messo insieme grande città insomma fondato una civiltà visto che teoricamente ero solo sul mondo se pensiamo che adamo fosse il primo uomo della creazione e poi il motivo fondamentale per cui tutte queste domande vengono evitate e vengono coperte in chiesa è vero o non è vero che ogni uomo è uguale al cospetto di dio insomma che dio considera tutti uguali è il nostro peccato è che non ci trattiamo in maniera uguale e questo è vero secondo voi perché se dite che è vero questo io vorrei pensare che non avete bene letto la bibbia perché chi ha letto la bibbia in modo attento fa fatica a sostenere questo 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 idea almeno che allora non dividiamo e diciamo vabbè il vecchio testamento c'era ma ecco la lì è stato rimosso poi è una specie di errore non è completamente consistente dio ha poi ripensato il suo progetto con il nuovo testamento quindi ha corretto il tiro ma anche lì non ci saltiamo fuori completamente per una serie di motivi che proprio biblici non per opinione e quindi questa questa le risposte a queste domande che mi hanno assilato a me perché io sono pochi anni che ci credono sono sono sei anni che leggo la bibbia da sei anni leggo solo la bibbia non leggo altri libri perché appena che ho capito che è la parola di dio e di che dio è il creatore non ho voluto leggere altro non capisco non capivo neanche in chiesa perché mi proponevano questo libro o qual'altro io non conosco ancora la bibbia quindi leggo solo quello ho studiato quindi abbastanza ma ciò nonostante queste domande mi hanno assilato da tempo allora avevo capito da qualche anno che i figli di israele cioè le tribù persi siamo noi scompersi siamo siamo noi questo l'ho capito però non trovavo informazioni in merito poca roba per sostenere questa mia convinzione perché dicevamo come mai che la bibbia poi alla fine insomma la commissione la condivisione della bibbia è centrato con le tribù europee insomma siamo noi che abbiamo portato la bibbia in tutto il mondo mentre quando guardiamo gerusalemme insomma israele vediamo gente che non ci crede neanche quindi questo mi è sembrato chiaro però come dico non ho trovato risposte poi ho scoperto che esiste un movimento che si chiama l'identità cristiana e ho trovato qualche gruppo ho cominciato di formare dei collegamenti con persone in tutto il mondo che seguono queste filosofie persone che conoscono la bibbia molto meglio di me e che sono fuori dalla chiesa sostanzialmente perché sono idee che in chiesa non vengano completamente in capovolta in genere allora le risposte le risposte sono venute a tutte queste domande in modo coerente e in modo coerente soprattutto con la bibbia con la parola di dio e la questione è sorprendente veramente adesso io mi io finisco qua per adesso vi lascio quindi con degli interrogativi semmai se qualcuno vuole rispondere le proprie idee poi se lo ritenete utile io cerco di ordinare il pensiero in modo di rispondere alcune domande che ho fatto abbiate pazienza perché come dico sono nuovo anche io queste cose qua e poi lo vedo come momento di riflessione non che io dico è così e quindi deve essere così sono cose difficili e sono cose che possono creare qualche sconforto quando capiamo come sono a mio avviso quindi bisogna andare piano piano e passo per passo niente va bene vi saluto